Musica Basta affluenza in risiera per la cerimonia del giorno della memoria, poco meno di 600 persone, quasi assenti giovani, forse ha pesato la domenica. Non basta dirsi indignati durissimo il Presidente della Regione Fedriga dopo la scoperta dei funzionari ONU implicati nei fatti del 7 ottobre. Se fosse un vero uomo chiederebbe scusa, l'assessore Bertoli risponde al consigliere Pasino in merito alla polemica nata a Sveglia Trieste. La CISL valuta se procedere con lo stato di agitazione, sui consultori non ci interessano le questioni politiche, vogliamo tutele per i lavoratori e garanzie sul servizio. Non basta il gol di un ritrovato lescano, la Triestina spreca il vantaggio e concede il pareggio alla Pergolettese, 1-1 a Fontana Fredda. Buonasera, ben trovati in una nuova edizione del telegiornale di Telequattro, si è celebrato questa mattina il giorno della memoria in Risiera. Una cerimonia che si è svolta seguendo il copione, forse un po' abusato e che non ha attirato molte persone. La cronaca della giornata della memoria raccontata da Umberto Bosazzi. Il sole ha fatto capolino squarciando la nebbia nel momento in cui il rabbino capo Alexander Meloni ha intonato la preghiera ebraica in Risiera, quello che è il momento forse più significativo della cerimonia del giorno della memoria. Una cerimonia che oggi si è svolta secondo un copione ormai consueto fin troppo sotto certi aspetti. Alla deposizione della corona da parte del prefetto, del sindaco e del presidente della regione, seguita da altre, ha risposto la sfilata dei gonfaloni. Quindi il discorso del sindaco di piazza che ha sottolineato il valore del giorno della memoria anche per le nuove generazioni, che però in ratto della pileria oggi non c'erano, seguito da quello del sindaco di Monrupino in rappresentanza del territorio. Poi le commemorazioni religiose del vescovo Trevisi, del rabbino e delle comunità serbo-ortodossa, greco-orientale e delle altre realtà, fra i presenti significativamente anche il responsabile del centro islamico di Trieste. Si accennava purtroppo doverosamente all'assenza dei giovani, comprensibile essendo oggi domenica preoccupante, giacché non dovrebbe essere la loro presenza imposta come obbligo. Laddove, essendo quello odierno il primo appuntamento significativo in risiera con ingressi diciamo contingentati, ciò può aver scoraggiato più di uno a partecipare e giova poco ragionare se vi fosse oggi più o meno gente rispetto allo scorso anno. Se dunque da un lato il giorno della memoria impone una riflessione su quanto accaduto e su quanto accade, è anche vero che dovrebbe imporsi una volta per tutte una riconsiderazione della cerimonia, proprio perché di certi atti dell'uomo la drammatica memoria non venga meno. Mai come quest'anno i temi al centro del giorno della memoria trovano riscontro nell'attualità, in tal senso sono improntati i commenti che abbiamo raccolto a margine della cerimonia, tra cui quello di Massimiliano Fedriga, il presidente del Friuli Venezia Giulia, durissimo con la sua presa di posizione dopo la scoperta dei funzionari ONU implicati nei fatti del 7 ottobre. Vediamo. Oggi questa manifestazione, questo giorno, è più denso degli altri per via di quello che succede nel Medio Oriente e quello che provoca come reazione in Europa, cioè l'incremento dell'antisemitismo, l'incremento dell'antisionismo che nasconde l'antisemitismo. La memoria deve essere purificata perché sia feconda per il futuro di giustizia e di pace dove non c'è più nessun odio, nessun razzismo, dove ogni persona, ogni popolo possa poter vivere in sicurezza e poter vivere sapendo di avere un futuro aperto davanti a sé. Perché un giorno, diciamo, che ci deve tenere attenti anche sul futuro, no? Che non avvenga più atrocità, non avvenga più violenze. Purtroppo quello che sta succedendo adesso un po', diciamo, lascia perplessi, insomma, no? È da rivedere un po' i nostri pensieri, la nostra umanità. È uscito anche un ultimo dato sulla popolazione musulmana in Francia e dei giovani, e soprattutto dei giovani sotto i 30 anni, che a 62 per 600 inneggiano alla distruzione dello Stato Israele che non deve esistere. Questo mi interroga profondamente sulla possibilità, non dobbiamo essere drammatici, per la possibilità per il popolo ebraico e per gli ebrei di rimanere in Europa. 50 guerre in giro per il mondo, la guerra in Israele, la guerra in Ucraina. Veramente questo mondo non sa, non sa veramente affrontare le cose. Pensate voi cosa spendiamo di armamenti, non so, è una folia. Potremmo mettere a posto il mondo e invece continuiamo a sparare, a sparare, a sparare. Veramente non abbiamo imparato nulla. Quanto sta venendo all'interno delle Nazioni Unite con l'agenzia presente in Palestina è un fatto gravissimo, scoperto oltretutto da un'organizzazione indipendente, UN Watch, che se non avesse denunciato i fatti nessuno si sarebbe accorto di niente. Milioni e milioni e milioni di euro che arrivano dall'Occidente, che hanno finanziato un'agenzia delle Nazioni Unite dove al proprio interno ci sono dei terroristi e chi ha festeggiato la mattanza del 7 ottobre. È qualcosa di inaccentabile, ci devono essere delle responsabilità. Non basta, come ha fatto il segretario generale delle Nazioni Unite, dichiararsi non ridito. Altri commenti della politica per quanto riguarda la giornata della memoria. La risilia di San Sabara presenta non solo un luogo di memoria e di lutto, ma anche un solenne monito per l'umanità intera. Qui, dove la storia ha lasciato il segno più doloroso, siamo chiamati a riflettere sulla fragilità dei diritti umani e sulla necessità di proteggerli con vigore e determinazione. Lo ha detto la sottosegretaria delle economie e finanze, coordinatrice di Forza Italia, Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino. La Shoah è una tragedia terribile che non passa e non può passare, per questo siamo qui, non soltanto per ricordare, ma per rinnovare tutti i giorni quella tragedia, per far sì che non accada più. Lo ha dichiarato la deputata Deborah Serracchiani, oggi alla risiera di San Sabba. L'olocausto è un dramma che nessuno può assimilare ad altri orrori, perché la Shoah non ha precedenti nella storia. Omologare la difesa del popolo di Israele a fronte degli attacchi del 7 ottobre all'eccidio programmato dai nazisti di milioni di ebrei è imparagonabile ed è fondamentale essere presenti a queste celebrazioni per difendere la verità. Lo ha detto oggi a Gorizia, l'assessore del patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari. E poi ancora, Trieste ha il drammatico privilegio di conservare l'unica testimonianza in Italia, nell'inferno concentrazionario nazifascista. Siamo qui presenti in un lagre a rendere onore alle vittime, alle loro famiglie, alle comunità colpite dall'odio antisemite e alla furia razzista. È la riflessione della segretaria regionale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, Caterina Conti, oggi a Trieste, per la cerimonia della giornata della memoria alla risiera di San Sabba. Parlavamo quindi degli ingressi, degli ingressi per la risiera, ingressi che erano previsti fino a un massimo di 2.200 persone, pubblico e autorità comprese. È andato tutto liscio, nessuna turbativa all'esterno della risiera, come si preventivava secondo alcune fonti delle forze dell'ordine. Vediamo il servizio. Circa 560 persone sono entrate nella risiera di San Sabba per assistere alla cerimonia della giornata della memoria. 1.825 i posti disponibili, 2.200 la capienza massima, considerando anche le autorità e per così dire gli addetti ai lavori, come la stampa. Gli ingressi tra il pubblico sono grossomodo in linea con gli anni precedenti, in realtà un po' meno, ma bisogna considerare il fatto che, essendo domenica, mancavano i ragazzi delle scuole. C'è da dire invece che è andato tutto liscio, contrariamente alle aspettative. Non ci sono state manifestazioni di protesta, leggi, movimenti pro-Palestina o il pericolo di frange anarchiche, né altre turbative. Tutto ciò ha facilitato sicuramente il lavoro delle forze dell'ordine presenti e del personale che controllava gli ingressi. Le persone sono entrate in risiera dalle 10.30 circa e gli ingressi sono continuati anche in corso di cerimonia dopo le 11.00. Nessuna fila si è formata, il pubblico giungeva in maniera incostante a piccoli gruppi alla volta. Mentre polizia, guardia di finanze e carabinieri presidiavano l'ingresso dell'ex lager nazista, la polizia locale gestiva la viabilità. Piccole code si sono formate prima della rotonda di via Valmaura, ma non si sono registrati disagi al traffico. Due persone sono rimaste leggermente intossicate a seguito, come vedete, di un principio di incendio nel rione di Valmaura, in strada vecchia per l'Istria, presso una palazzina. Una segnalazione giunta poco prima delle 14.00 per un episodio avvenuto in luogo. Pare che una cucina abbia iniziato a prendere fuoco sul posto sanitario del 118, anche per raccogliere in ambulanza le persone portate poi in ospedale per l'intossicazione in codice giallo e codice verde. Quindi per fortuna non sono gradi sul posto ovviamente i vigili del fuoco che hanno operato per mettere in sicurezza l'area e prestare i primi soccorsi. Ancora ignote le cause di questo incendio, si presume un incidente. Se fosse un vero uomo chiederebbe scusa. L'assessore al bilancio Everest Bertoli ha risposto così al consigliere comunale Pasino in merito alla polemica nata a Sveglia Trieste. Nella puntata di Ring Bertoli ha portato anche dei documenti che raccontano la sua storia tra Albania e Italia. Lo ha intervistato il vice direttore Ferdinando Avarino. Vediamo appunto l'estratto da Ring. Cosa è successo? Se Pasino vuole fare il mio biografo? Guarda, gli ho portato i documenti anche abbastanza interessanti. Un articolo di un giornale del 20 febbraio 1982 di questa città che comincia a svelare una storia. Tornano 85 triestini d'Albania, sono stati dimenticati e perseguitati per 47 anni. Roma denuncia, le regioni ostacolano il rientro. Qui c'è un elenco e c'è anche Bertoli Clemente, suo padre, nato l'11 febbraio 1943. È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dall'Albania dei cittadini ivi residenti con decorrenza 1 gennaio 1992. Cioè, tornate qui perché l'ha buttata. Non potete più restare lì, c'è un lavoro eccezionale fatto dall'ambasciata italiana in Albania che andò città per città e in due o tre mesi completò il censimento di quelli che erano rimasti anche dei discendenti di cittadini italiani. E naturalmente la mia famiglia scelse la città dove ha avuto origine, dove è nato il mio nonno, dove è nato il mio bisnonno. Cioè Trieste. Il mio padre è stato concepito, Trieste. Questa è la storia, ecco perché dico che il film che si è fatto in testa... Quando dice l'assessore albanese è sbagliata, cosa vuol dire? È assolutamente falsa. Sai cosa mi aspetto da Pasino? Scusa, cosa si aspetta da Pasino? Mi aspetto, se mi diceva una cosa, se fosse un vero uomo, avviene qua e si scusa pubblicamente. Perché ha detto sul sottoscritto, sulla vita privata, sulle mie origini, un sacco di fesserie. Ha dato un sacco di notizie non vere. Penso che questo insomma è evidente a tutti. Ahimè, molto probabilmente non lo farà, lo farà, non lo so, scelga lui. Ripeto, io non perderò più tempo con questo personaggio. Però si è sentito ferito, no? Ferito un po'. Posso anche capire che a dicembre, magari rascosso dalla lunga notata del bilancio, tornare gratuitamente. E soprattutto, ma anche perché poi questo ha dato, ha dato anche su Facebook, poi la stura ad altri comportamenti, alquanto posso dire, c'è la signora che dice io pretendo di chiamare l'albanese perché hai pagato con le mie tasse. Chiamatemi come volete. La CIS verso lo smarcamento per lo stato di agitazione. Questi commenti sui consultori non ci interessano, le questioni politiche che non ci competono. Vogliamo tutele per i lavoratori e garanzie sul funzionamento del servizio. Sentiamo. Noi abbiamo in questo momento, con altre due sigle sindacali, avviato la procedura rispetto a uno stato di agitazione che però noi internamente adesso stiamo valutando come comportarci perché noi come sigla abbiamo attivato tutte le procedure necessarie e anche la dialettica con l'azienda rispetto alle due tematiche che le dicevo prima. quindi sia ai cittadini che rispetto agli operatori. La CIS valuta se procedere con lo stato di agitazione. È votato assieme a FIALS e CGL nella riunione con il personale dei consultori lunedì scorso ma rimarca come in primis bisogna tutelare il lavoro degli operatori e del servizio. Non vogliamo entrare in questioni politiche. Ci interessa invece che il sistema funzioni al meglio con tempestive comunicazioni alla cittadinanza e agli operatori del settore. Questo è il senso del messaggio. Noi non ci esprimiamo sulla parte né politica né organizzativa aziendale perché non ci compete. Quello che è per noi importante è che gli operatori del servizio abbiano le tutele necessarie e soprattutto che ci siano i servizi garantiti per l'utenza e i cittadini. Che gli operatori siano sufficienti per garantire la modalità oraria che in questo momento ASUGI propone e soprattutto che questo cambio di sede sia in qualche modo accompagnato dall'amministrazione e che sia stato comunicato in maniera tempestiva all'utenza. Perché questo? Perché chiaramente il cambio di sede ha implicato degli spostamenti di appuntamento o degli appuntamenti anche con altri servizi come per esempio il comune e quindi era importante che l'utenza venisse informata di questo. Il 2023 è stato un anno difficile dopo aver garantito che i ragazzi potessero andare a scuola e che i poliambulatori fossero aperti. Ora l'obiettivo è che la casa di riposo in cui stanno completando i lavori possa raccogliere le persone che sono state temporaneamente ospitate in altre sedi e che i prossimi mesi vedano arrivare i ristori. Lo ha affermato l'assessore regionale della salute Riccardi alla comunità di Mortegliano duramente colpita dagli eventi atmosferici lo scorso anno intervenendo alla festa patronale di San Paolo. Nell'occasione Riccardi, sottolineando la compostezza e il senso di resilienza con cui Mortegliano si è realzata, ha auspicato che i ristori che proverranno dal governo siano adeguati alle necessità. Per parte sua la regione ha fatto il possibile stanziando una cifra senza precedenti di oltre 150 milioni di euro per le prime emergenze e sono certo, ha concluso Riccardi nella nota, che il 2024 sarà l'anno dei ristori. Siamo allo sport, siamo allo sport. La Triestina ha pareggiato 1-1 contro la Pergolettese passando prima in vantaggio con un gol di un ritrovato l'Escano ma subendo il pareggio poco dopo. Entrambi i gol sono arrivati nel secondo tempo. Ecco la cronaca del match, o meglio, gli A-Lights. La Triestina spreca il vantaggio, arrivato con il gol di un ritrovato l'Escano e concede il pareggio alla Pergolettese. È la terza partita consecutiva in casa in cui la squadra di Tesser manca la vittoria. Entrambi i gol sono arrivati nel secondo tempo. Dopo aver immagazzinato punti a suon di vittoria, ecco che, come fisiologico che sia in questo momento dell'anno, la squadra conferma il momento altalenante. D'altronde la tensione e la freschezza non possono essere mantenute costanti per tutta la stagione. Stessa formazione di Vercelli per l'Unione. Agostino fra i pali, in difesa Germano, Struna, Moretti e Petrasso. A centrocampo Celeghin, Correia, Vallocchi e D'Urso. Vertaine nell'Escano la coppia d'attacco. Già al quarto minuto l'Escano fa scendere un brivido sulla schiena degli avversari ma il tiro su punizione accarezza l'esterno della rete. Sette minuti dopo l'attaccante ci riprova e sulla respinta della difesa la palla arriva a Celeghin che però non riesce a inquadrare la porta. Partita che pare equilibrata con la trestina che attacca e la pergolettese che tiene. Al trentunesimo Vertainen riceve la palla destra vicino alla linea dell'area. Si infila tra i difensori e calcia di esterno ma non riesce a indirizzare il pallone in porta. Al trentottesimo è la pergolettese che ci prova con Felicioli ma Agostino respinge il tiro. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella ripresa mister Tesser chiama i cambi. Dentro era Zrac e Redan per Durso e Vertainen. Proprio Redan raccoglie il filtrante di Correia e a tu per tu davanti al portiere gli calcia il pallone addosso. Al sedicesimo finalmente la scossa. Calcio di punizione battuto da Vallocchia. In caduta di sinistro l'Escano colpisce insaccando la palla in rete. Al ventiduesimo la pergolettese si fa rivedere in avanti. Bariti imitando un più noto Quaresma spara la trivela verso Agostino ma l'esecuzione è più bella che efficace. Nessun problema per il portiere alla Bardato. Al ventottesimo però ecco il pareggio degli avversari. Cross di Bariti e colpo di testa di Giauari. Ultimi cambi per Tesser dentro Ciofani, Minesso per Germano e Celeghin. A tre minuti dalla fine è ancora l'Escano ad avere fra i piedi la palla buona ma il portiere gli sbarra la porta. Il match finisce 1-1. Tristina salda la terza posizione in classifica a quattro punti dal Padova. Uno sguardo anche alla pallacanestro. Non ci sono buone notizie per la pallacanestro. Trieste perde 76-90 proprio al palazzetto contro Rimini. Ecco il titolo che scelgono i colleghi di City Sport. Trieste sbiadita da far paura. Rimini giganteggia a Valmaura. Questa appunto la riflessione anche del quotidiano online. La vittoria con Chiusi era stata una mera illusione. Rimini passa a Valmaura e riporta nuovamente la parola crisi in pallacanestro Trieste. Questa è insomma l'analisi nell'articolo di Alessandro Asta di City Sport. Andiamo però a parlare invece anche di buone notizie per quanto concerne lo sport italiano. leggenda Sinner in Australia vince il suo primo slam. È trionfo a Melbourne. Medvedev battuto in rimonta 3 a 2. 48 anni fa era dipanata l'ultimo trionfo azzurro. Arriva anche il commento ovviamente positivo del primo ministro della Premier, Giorgia Meloni che così annota scrive, ovviamente inteso Sinner, una pagina di storia che ci rende orgogliosi. Questa è la bella notizia sportiva per tutta l'Italia e per un campione ovviamente come Sinner. Prima di salutarci diamo un rapido sguardo anche alla pagina Meteo attraverso il sito dell'Osmer. Come potete vedere continua il bel tempo ma anche i banchi di nebbia sulla fascia costiera come era stamattina un cielo sereno pressoché su tutta la regione. Sulla bassa pianura e costa probabile appunto la presenza di foschie e nebbie, specie nelle ore notturne. Temperature minime tra gli 0 e 5 gradi, le massime tra i 7 e i 9. Il tempo per anche dopo domani, martedì 30 gennaio, sempre un cielo sereno e poco nuvoloso ma sempre presenza qui di banchi di nebbia sulla zona costiera e in pianura, le temperature invece rimangono invariate e dello stesso tipo anche la previsione per mercoledì e per giovedì. Al centro della settimana un cielo sereno con qualche nuvolosità maggiore per quanto riguarda la giornata di mercoledì e sempre la presenza di banchi di nebbia o foschie sulle zone pianeggianti e sulla pianura, scusate, e sulla fascia costiera. È tutto dal telegiornale di Telequattro di questa sera, grazie per averci seguito, vi lascio sempre a Mishot e vi rimando per le notizie ovviamente a Sveglia Trieste domani mattina dalle ore 7, naturalmente i telegiornali di Telequattro delle 13.20 e delle 19.30. Buona serata. Grazie Grazie Grazie